Beh, che dire, prima partita e prima vittoria. Io quindi ovviamente partirei da questo aspetto qua, che è un aspetto davvero importante per l'umore e per quello che può essere il nostro percorso in queste settimane. Io prima della partita ho parlato con le ragazze e ho detto loro che ci sarebbe stata una cosa grande da affrontare quest'oggi, che erano le emozioni. Perché le emozioni di una prima partita, le emozioni di un gruppo nuovo. Ho cercato di lavorare tanto, abbiamo cercato di lavorare tanto sulle certezze di queste ragazze, perché arrivassero oggi e riuscissero a gestire meglio le emozioni. Io penso che ci siamo riusciti, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto una qualità del gioco secondo me molto buona e abbiamo trovato il raddoppio con una nuova entrata. E questo è anche un aspetto secondo me molto importante, perché sto insistendo tanto sull'importanza di tutto il gruppo. Il fatto che una nuova entrata sia entrata con quell'entusiasmo, facendo gol subito, secondo me dà ancora più valore al percorso che stiamo facendo. E dico che se la meritavano tutti, se la meritavano queste ragazze per queste sette settimane, se la meritava questo staff, perché io sto chiedendo tanto. Sto chiedendo tanto e una vittoria di questo tipo è una cosa che dà morale e che tutti per me si meritano e quindi questa è la cosa più importante oggi.